Salve a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi portiamo la ricetta di un dolce dal sapore molto delicato, il tiramisù al limone. Per creare la bagna, prendete un recipiente e versate dell'acqua, la pesate e poi riversatela in una bacinella. Fate lo stesso procedimento con il limoncello, senza esagerare, mi raccomando. Aggiungete lo zucchero e mescolate energicamente, così si scioglierà. In due recipienti dividete gli albumi dai tuorli. Montate i tuorli aggiungendo un po' alla volta dello zucchero. Quando si sarà addensato, versate il mascarpone. Grattugiate della scorza di limone e mescolate. Grattugiatezza Versate del succo di limone facendolo prima a filtrare con un setaccio. Dove aver montato gli albumi a neve, incorporate aggiungendone poco alla volta, se no si potrebbero smontare. Prendete una pirofila, la bagna e dei biscotti o anche dei savoiardi. Inzuppate i savoiardi nella bagna. Per ricoprire tutta la base della pirofila, se serve, spezzate il biscotto, così non lasciate buchi. Dopo aver creato il primo strato di savoiardi, versate la crema e ricoprite tutto. Fate un secondo strato di savoiardi, sempre facendo attenzione a non lasciare buchi. Ricoprite con un'altra passata di crema e decorate a piacimento. Noi abbiamo usato la panna, ma potete utilizzare della scorza di limone. Quindi se il video vi è piaciuto metti like ed iscriviti al canale se vuoi vedere altri contenuti. Se ti va puoi lasciare alcun commento per farci sapere la tua. Dal canale Dei, Dei Forchettari è tutto, alla prossima!